Enrico Ariemma Ubi Maior Dovremmo continuare con una brutta parola Però non è il caso E allora ragazzi è arrivato Demme Che ha scelto il numero 4 Però come diceva Lino D'Angelo prima C'è questo mistero lo bocce Il quale è a Napoli Però il Napoli lo nasconde Perché lo diceva anche Francesco Molaro Non possiamo ancora annunciarlo Per ovvi motivi di gestione Della lista La famosa lista Chiedo prima quindi ad Enrico Ariemma È un mercato che fino adesso ti soddisfa O secondo te dobbiamo essere pronti Ad avere altri colpi di mercato Ma insomma Come al solito mi fate parlare di mercato Quando c'è Francesco No vabbè che c'entra Scherzo No mi sembra un mercato No mi sembra un mercato in questo momento funzionalissimo E insomma certo Il playmaker di grande stessore non è arrivato Ma secondo me non è arrivato un playmaker vero Cioè questi sono due calciatori Su Demme Vi dico ho preso qualche informazione Sull'ho bocceca qualcosina in più la sapevo Ma sono giocatori che secondo me E hanno la capacità di adattarsi A fare da schermo E a impostare Anche col calcio lungo Oltre col calcio breve Non sono playmaker nati playmaker Non sono fatti e finiti in quel ruolo Questo Enrico ha sensazione chi esce dal Napoli Per far posto all'ho bocceca? Perché adesso Abbiamo le cucchie Non ho capito Dicevo abbiamo le cucchie grossomodo No dico considerato Considerato che deve uscire qualcuno Per far arrivare l'ho bocceca Perché sarebbe assurdo Avere l'ho bocceca a Napoli Nascosto in albergo Che va a cena con Gattuso E' giunto E poi non lo prendiamo Avremo l'ho bocceca e Demme come schermi Avremo Allan sicuro a destra Genischi sicuro a sinistra E poi avremo Fabian e Elmas Che sono coppia con l'uno E o con l'altro Perché possono giocare entrambi Secondo me sia a destra che a sinistra Fabian a destra rientrando Mi piace abbastanza Anche se non come mezzo alla sinistra Naturalmente Francesco Romano Chi esce non lo so Chi esce Francesco secondo te? Guarda io sono abbastanza d'accordo Con quello che ha detto Enrico Nella valutazione insomma Del pacchetto di centrocampo Io credo che tra Tra le varie opzioni Quello che rischi di più Di rimanere in panchina È Fabian Fabian Ruiz Perché comunque sia Alla fine Il Centrocampo del Napoli È abbastanza È abbastanza definito Con Allan Che adesso è vicino al rinnovo Sul centro-destra Come diceva Enrico Dem È Lobosca In zona In zona centrale E sul centro-sinistra Credo che comunque Più oltre Zilischi Mantenga Insomma La sua leader Si fa preferire Si fa preferire Per il momento Soprattutto a tre Zilischi È sputato Veramente sputato Eh sì È quello che faceva Amsic un tempo Con più fluidità Ragazzi invece Per quanto riguarda Il discorso Relativo al bomber Si parla tantissimo In queste ore di Llorente Che potrebbe andare via Al Tottenham Secondo voi Il Napoli avrà la forza Di prendere qualche altro Giocatore importante Lì alle spalle di Milik O addirittura davanti a Milik Perché comunque In queste prime uscite Di campionato Abbiamo capito Di gestione Gattuso Chiaramente Abbiamo capito Che Milik È il punto di riferimento Per l'allenatore calabrese Ma fondamentalmente Secondo me Non è perfetto Per sviluppare Quel tipo di gioco Perché non dà profondità Non sa fare la sponda Certo Se poi come dice Rino Maggiore Non gli mettiamo Nemmeno i cross Diventa molto difficile Per lui anche esprimersi O no? Bisogna vedere Che cosa fa Mertens Esatto Perché Adesso diciamo Senza entrare In valutazioni Che potrebbero essere Anche polemiche Insomma Mertens comunque È in mezzo da 10 giorni adesso Eh infatti Ma l'abbiamo detto prima Non è che Diceva Donato L'ho scritto anche io In questi giorni Non è che si cura La dottore Non mi pare un malanno Non sembrerebbe Da quel che si dice Un malanno così grave Infatti Non solo Enrico Posso aggiungere Scusami Enrico Posso aggiungere Una cosa Conoscendo Conoscendo Il tipo di calciatore Conoscendo Mertens È uno che Di solito Anche quando Quando è stato infortunato Ha fatto infiltrazione In momenti magari Un po' delicati Come Quello che sta Eh sì Sarebbe rimasto Comunque sia Accanto alla squadra Infatti E il fatto che non l'abbia fatto Mi fa pensare Ragazzi però Vi posso dire Vi posso dire una cosa È normale che un calciatore Dopo Dopo che ha tirato La carretta per tanti anni Vede che il club Non vuole accontentarlo Poi possiamo discutere Dei contenuti Possiamo discutere Delle cifre È tutto quello Che c'è da dire Anche sul finale di carriera Dove ogni calciatore Cerca di strappare Il miglior contratto possibile Però è anche evidente Che se tu hai dato tanto E la società Non ti vuole accontentare Non metti la gamba Come la mettevi una volta No è anche normale Scusami Scusami Se è vero E non abbiamo nessun motivo Per pensare che non lo sia È vera l'offerta Che il Napoli Ha fatto a Mertens Di una biannale Anche a 4 milioni di euro 4 milioni di euro Cioè se è vera Allora E io ti dico Se è vera questa La premessa è Se è vera Non dirmi Non dirmi Esatto Non dirmi che Mertens Non abbia tutti i motivi Per rinnovare Evidentemente C'è qualche squadra Che al prossimo anno Gli potrà guadare Qualche milioncino in più Evidente Evidente Quindi Ma io penso Anche a parità di prezzo Lui se ne andrebbe Tu dici Esatto Esatto Esattamente Francesco Ti voglio chiedere una cosa E correggetemi se sbaglio Che magari De Laurenti Stia cercando di venderlo Adesso all'estero Per evitare una Roma Un Inter A giugno Lasciando stare il bagno economico Proprio per una questione Anche di Certo Sono sincero A me Iuri ci piacerebbe Non poco come allenatore Perché è un allenatore Molto Diciamo È un allenatore Rampa di lancio Che mi ricorda molto Gasperini Però credo che Per il Napoli Per il Napoli Si voglia un allenatore Un tantino più scafato Più Più pronto Ragazzi ci dobbiamo mettere Nell'ordine delle idee Che il Napoli Deve ripartire Non dico da zero Ma quasi Sono d'accordo Quindi un allenatore Va bene secondo me Un allenatore Che ricorda un po' Mazzarri Che fa il tre difensivo Potrebbe essere La chiave di lettura Io spero in un Gasperini Lino D'Angio Dice che Gasperini Già non lo possiamo prendere più No esatto È già fuori Sì però È già fuori E siamo d'accordo Però vi invito a fare una riflessione L'Inter L'allenatore L'anno prossimo Non lo cambia La Juventus Menchè meno A meno che non accade Una catastrofe Non credo che prenderebbe Gasperini La Roma nemmeno Perché da poco Iniziato il progetto Fonseca La Roma ha trovato Fonseca Sì Ma non è che il Napoli Se va a prendere Fonseca Io sono convinto Che l'unica squadra Che se dovesse cedere Simone Inzaghi È proprio la Lazio Che potrebbe prendere Gasperini Anche Sempre che Anche A quel punto però Simone Inzaghi Si potrebbe liberare In chiave Napoli Ecco Ecco Perché non dimentichiamo Che Chiavelli Chiavelli Prima di prendere Ancelotti Aveva Voleva Simone Inzaghi Ragazzi Per concludere È un Gasperini Al Magistare di United Eh Eh La vedo La vedo dura Ragazzi per concludere Chiedo anche a voi Come ho chiesto agli altri ospiti Maurizio Pistocchi Roberto Massarone Oscar Magoni E tanti altri Vi chiedo Qual è secondo voi La formazione Che schiererà Gattuso In campo domani Contro il Perugia Perché Perché chiaramente Qualcuno si aspetta il turnover Mentre io invece Mi aspetto che lui Faccia giocare La formazione Quanto più vicina A quella potenzialmente titolare Prima Francesco E poi a concludere Il professore Ariemma Francesco Sono d'accordo Con Con te Luca Secondo me Sicuramente Farà giocare Dem Anche per Testarlo E presentarlo Ai nuovi Tifusi Al centrocampo È probabile L'innesto di Elmas Ma uno Tra Allan E Silischi Comunque Secondo me Troverà posto Mettiamo ordine Portiere Allora io credo Meret Anche per le condizioni Di Ospina Mentali di Ospina Io credo invece Che darà fiducia a Ospina Infatti Poi Poi Allora Poi In difesa Io credo Che faccia giocare Gli Usai Sì Centrali Sicuramente E beh Centrali Per forza Deve far giocare Luperto E Manolaz Sì E a sinistra A sinistra Per forza Mario Luis Quindi Di Lorenzo Non lo riporti mai A destra Di Lorenzo Secondo me Lo fa riposare Poi Secondo me Gioca con Elmas Lemme E Silischi Sì E Avanti Lozano Insigne Fiorente Fiorente Insigne Professore Ariemma Molto Io credo Soltanto Che faccia Iusai Di Lorenzo O Di Lorenzo Iusai Con Lupetto Manolaz In mezzo E poi Secondo me Giocherà Allan Demme E uno Fra Fabian E Zierinsky Io invece Sono d'accordo Con il professore Sicuramente Lozano Insigne Allora Ragazzi Un saluto Ad entrambi Grazie per essere Stati con noi Siete sempre Preziosi Grazie Un abbraccio Statevi attenti Voi E il Malaga Vedete come ve lo dico Ah Il Malaga A proposito di Altani Perché Non ti piace l'idea Altani Innanzitutto Fino a due anni fa Stava ancora Accumulando Debitarielli Che lui sta ancora Fino a un annetto fa Era ancora dentro il Malaga Non so se ci sia ancora adesso No 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 È uscito Penso abbondantemente L'ho lasciato pieno di debiti È azionista del manoposto del genere Sì però non è più azionista di maggioranza Non è più il proprietario del Malaga Per fortuna l'ora Io non sarei così sereno Davanti a una Saresti più sereno con un commisso Dici la verità No Maron Meglio tenersi dell'aurendisi Madonna Ma non ho capito perché dobbiamo mirare così in basso Ma Friedkin Eh magari Ce lo vuoi portare tu Francesco Magari con i tuoi poteri di Mediaset Ma magari Ragazzi Magari lo convincessi a desistere È un piacere stare con voi Vi riavremo sicuramente nelle prossime Ciao ragazzi Ciao ragazzi Buonasera Un abbraccio a Francesco Romano E al professor Enrico Ariemma